ok ci sono un dj oh nice oh manamo manamo chi è andati oh manamo puuuh ma ci sono le mie manamo e la da da se li snacchia e sta viiiiijamo eh 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 manamo non può chiedere la flaca mi sa l'altro diciamo, so che... è casa ora pesa vengì, sorry, ando però ci sono vari store? eh, ne allora, adesso non basta più se non c'è nessun occhio o poter, chi è questo? non può pesare dov'è me non parte di tutto? e poi se non vanno e pidi se non vanno e non è anche una... n'erto io... hmmm... se questo è un po' bella ma spagliate da una di io non e poi se non vanno e poi se non vanno bene e poi se non vanno ma non vanno e poi non vanno ma in mezzo ok... è un po' bella vanno non vanno 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 Lidia, non ho bisogno di farlo, non so, ma non so. Ora ti fai. Sì, è vero. Cristo, ci fai! ah oh chien d'im уд down a non in un bollettico e